Parlando con Francesco Mesachi e i suoi amici, ho avuto modo di notare che oggi purtroppo esiste un grandissimo pregiudizio. Tutti loro, infatti, quando dovevano parlare male della nostra epoca storica, facevano sempre il paragone col Medioevo. Maronna mia, o Medioevo, è o Medioevo, ma poi alla fine il Medioevo invece è bello. E perché questi la continuano a pensare così? Ed ecco perché sto per portare Francesco Mesachi in viaggio con me. Dove? Non è importante. Quando? Nel Medioevo. Così da combattere questo suo pregiudizio.